Il network dei rider è un network in cui il valore assoluto è quello di essere produttivo e di avere stile. Non è la classica appartenenza, non sai i vestiti che porti, non so quanti soldi hai o che macchina hai. Quindi diciamo è abbastanza bello come mondo quello in cui crescere.